Troppa pioggia in quel di Fontana Fredda, la partita fra Trestina e Alessandria, inizialmente posticipata di 45 minuti, è stata successivamente rinviata. L'arbitro Diop ha preso la decisione per le condizioni impraticabili del campo. L'Unione è tornata a casa, rinunciando a dar seguito alle ultime positive indicazioni che il campo aveva fornito, con la vittoria contro il Fiorenzuole in particolare, ma già con il pareggio contro il Legnago Salus una settimana prima. Il dispiacere dell'ambiente è di fatti dettato dal non poter dimostrare che la squadra si sta indirizzando verso un cammino positivo. Di fronte, inoltre, si è rappresentato un avversario che, guardando la classifica, era ampiamente alla portata di questa triestina, con tutto il rispetto nei confronti della formazione piemontese. Bordina avrebbe riproposto il modulo con la difesa a tre, considerato al momento il più equilibrato per portare spinta sugli esterni e quantità in mezzo al campo. In attacco, inoltre, arrivano buoni segnali da Redan, che negli ultimi due incontri si è rivelato vivace e reattivo. I rosso labbardati al momento sono fermi a 50 punti, con 30 partite disputate, 1,66 punti a partita viziati e negativo, dalla striscia di sconfitte nei primi due mesi dell'anno, ma ancora ampiamente in corsa per il terzo posto in classifica, che, guardando i play-off, si tradurrebbe in una gestione migliore degli spareggi, col beneficio di un tempo di preparazione verso il primo incontro più lungo, subentrando a play-off già incominciato. Campo di casa che diventa però un rebus ancora irrisolto. Lo stadio Rocco è interessato dai lavori di manutenzione del terreno che stanno procedendo a buon ritmo, tanto da far ipotizzare l'utilizzo dell'impianto per una delle ultime fatiche casalinghe dell'Unione, ovvero quella contro il Novara del 20 aprile. Il 28 di aprile si giocherà l'ultima di campionato a Padova, poi scatteranno i play-off che per le formazioni della quinta alla decima del girone partiranno il 5 maggio. C'è da immaginare che le compagini che accederanno ai turni successivi potranno scendere in campo a stretto giro nelle settimane seguenti. Settimane calde che a Trieste vedranno un incrocio, ancora da definire, fra impegni sportivi e concerti.